ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo completo un completo da pagliaccio diciamo pagliaccio assassino nel caso di gtano quindi allora per fare questo completo dovete andare al parrucchiere ovviamente mettere questa capigliatura o metterlo pelato se volete completamente senza capelli insomma a vostro gusto una volta fatto ciò ovviamente scegliete il colore bello rosso acceso mettete questa capigliatura che ricorda molto il clown e scegliete anche una pittura facciale da clown in questo caso questa una volta fatto ciò dovete andare al negozio di abbigliamento potete anche mettere delle lenti a contatto rosso per farlo sembrare più assassino allora una volta andati nel negozio di abbigliamento andate a completi e scegliete questo tipo di completo ragazzi questo con il papilloma che ho appena messo io perché questo vi aiuterà a mettere tutti gli altri vari pezzi altrimenti sarà un po' problematica per mettere gli altri pezzi una volta rimasti con questo completo andrete a scegliere una giacca che adesso andremo a vedere io andrò a mettere la giacca azzurra che ricorda molto i clown questa giacchetta qui si ragazzi che ricorda molto i clown che Michael mi sembra Michael la deve affrontare nella storia e andiamo a mettere un pantalone da lavoro rosso e fin qui un pezzo è fatto andiamo a mettere una scarpa elegante tra scarpe eleganti ce ne sono svariate diciamo che alcune assomigliano la maggior parte delle bicolore assomigliano a un vestito da clown tipo queste che state vedendo però io ne andrò a mettere una in particolare è un tipo in particolare che riprenderà abbastanza l'intero completo comunque state vedendo anche queste bianche e nere diciamo hanno una piccola somiglianza queste che avete visto adesso però io ne sto cercando una in particolare cioè quelle che avete appena visto scorro un attimino ma no meglio queste per me queste blu e bianche sono le migliori almeno per me poi fate a vostro gusto ragazzi è chiaro ognuno ha i suoi gusti andiamo a mettere queste scarpe una volta messe queste scarpe andiamo a guanti e mettiamo un paio di guanti bianchi ragazzi bianchi semplicemente bianchi e diciamo che il completo è fatto ragazzi completo da pagliaccio assassino dicevo assassino perché comunque siamo in GTA e andremo ad uccidere un sacco di gente quindi siamo assassino una volta messi questi guanti bianchi non dovremo fare altro che togliere il cappello ragazzi e avremo il nostro completo da pagliaccio assassino niente ragazzi per questo completo è tutto per questo video è tutto un saluto da Maxi al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti